In una calda sera di luglio, Bari e Saleritana pareggiano e quasi verrebbe da dire che non vogliono farsi del male a vicenda, come a valore onorare il gemellaggio esistente fra le due tifoserie. La squadra dei Longo vince i punti il primo tempo in cui trova il vantaggio con la Sagna, quella di Martuscello si ritrova a strada facendo e pareggia con un gran tiro dalla distanza di Sfait nella ripresa. Esordio da titolare per Amatucci nel centrocampo Granata che Martuscello propone a tre con Legoschi e Mamadou a fare da cursori lati del giovane playscuola fiorentina. La nota più suonata della serata è rappresentata dall'infortunio di Dalmonte che ha chiesto il cambio sul finire il primo tempo. Per lui si teme un guai a livello del bicipite e femorale della coscia destra e lo stop potrebbe non essere certo breve. Dopo Tonghia un altro nuovo innesso si ferma e boxe per un problema muscolare e là davanti le alternative si assottigliano tanto che ieri sera Martuscello ha lanciato nella mischia Callon che si era aggregato al gruppo a pranzo. Di A e Simi si sono alternati al centro dell'attacco ma entrambi sono in partenza. Buonazzoli è rimasto a guardare, altro chiaro segnale che il futuro per lui sarà lontano da Salerno. Non erano nemmeno in panchina ieri sera Bradericce e Maggiore che dovranno sottoporsi ad altri esami per capire le loro condizioni. Oggi inizia il mese di agosto e tra undici giorni la saletana scendere in campo per la gara di Coppa Italia con lo Spezia. Sul fronte societario si attende qualche comunicazione a breve circa la nomina di Roberto Busso a nuovo presidente ma anche per capire termini l'intesa con la Gabetti.